Musica Il limite del nani, il tiro è la parata di Agassi che riesce a devviare il calcio d'angolo Il tiro è la parata che con un guzzo leva il pallone da dove i ragni si stavano traspostando Al cross, Jalic, la parata miracolosa di Agassi Il controllo della Fiorentina, Vargas avanti al portiere, Vargas, Vargas, la risposta di Agassi La parata miracolosa di Agassi che nega il gol a Sanchez Parte Rudolf, il tiro è la parata, Rudolf ancora, parata ancora, si è fatto perdonare, si è fatto perdonare